3. Lontano da casa. Eccolo sulla coperta di un vaporetto, in mare aperto. Ha visto tante cose durante il viaggio che non ha avuto il tempo di annoiarsi. È pomeriggio, ora, sempre malinconico come l'inizio della vecchiaia. Scendono le ombre, a mutare stranamente ogni cosa senza nasconderla come la notte. Gli manca qualcosa, si sente vuoto, abbandonato, affranto, vuole tornare a casa, ma l'impossibilità di farlo lo riempie di terrore. Comincia a piangere. Quando i fratelli gli chiedono perché pianga, risponde che vuole andare a casa dalla mamma. Lo prendono in giro. Ecco che gli appare l'immagine della madre, seria, dolce e sorridente. Gli sembra di sentire le sue ultime parole sul ponte del vaporetto. Sia obbediente e gentile con tutti. Abbi cura dei tuoi vestiti e non dimenticare le preghiere della sera. Johan pensa a quanto sia stato disobbediente e si chiede se stia bene. Purificata, trasfigurata, la sua figura si innalza e lo attira con i fili della nostalgia, che non si spezzano mai. Questa nostalgia della madre, questa solitudine non lo avrebbero seguito per il resto della vita. Era venuto al mondo troppo presto. era nato prematuro. Che cosa lo teneva così legato al tronco materno? Non ebbe mai una risposta né dai libri né dalla vita, ma il fatto rimase. Non fu mai se stesso. Mai veramente libero. Mai un individuo compiuto. Rimase un vischio che non cresce senza l'appoggio di un albero. Un rampicante che deve essere sorretto. Debole e pauroso di natura. Praticava tutti gli sport più virili. Era un buon ginnasta. Poteva montare un cavallo in corsa. Sapeva usare ogni tipo d'arma. Sparava, nuotava, andava in barca audacemente, ma solo per non essere da meno degli altri. Se nessuno lo stava guardando quando faceva il bagno, entrava in acqua carponi. Se qualcuno lo stava osservando, si tuffava a testa in giù dal tetto di una cabina. Era cosciente della propria paura e voleva nasconderla. Non aggrediva mai i compagni. Ma se veniva attaccato, restituiva i colpi. Anche a uno più forte. Era venuto al mondo nella paura. E visse sempre nella paura della vita e della gente. Il vaporetto lascia sbuffando l'insenatura. Si spalanca il mare. Una linea blu senza rive. La novità dello spettacolo. Il vento fresco. L'allegria dei fratelli lo rasserenano. E pensa che quando il vaporetto curverà ed entrerà nel fiume di Nicoping, presto avrà già percorso 18 miglia marine. Si getta la passerella e sale a bordo un uomo di mezza età, dalle basette bionde. Dopo una breve conversazione con il capitano, incontra i ragazzi. Ha un aspetto buono ed è allegro. È in sagrestano di vidala. Sull'arriva li attende un carretto con una cavalla nera. In breve sono in città e scendono nella fattoria di un commerciante che è anche il ritrovo di contadini. C'è puzzo di aringa e di birra e l'attesa diventa insopportabile. Johan si mette di nuovo a piangere. Finalmente arriva su un carro il signor Linden con i bagagli e dopo molte strette di mano e molti bicchierini lasciano la città. Quando passano la dogana è già sera. Campi, amagese e recinti aprono una lunga e deserta prospettiva. Al di là dei villaggi rossi si scorge in lontananza il margine di un bosco. Bisogna attraversarlo e poi ancora tre miglia di viaggio. Il carro attraversa il bosco tenebroso, tramonta il sole. Il signor Linden chiacchiera e cerca di fargli coraggio. Parla dei compagni di gioco, dei bagni e della raccolta delle fragole. Johan dorme. Si sveglia nei pressi di una locanda piena di contadini ubriachi. I cavalli vengono staccati ed abbeverati. Il viaggio continua attraverso altri boschi tenebrosi. Bisogna scendere e risalire colline. I cavalli fumano e soffiano. I contadini sul carro dei bagagli scherzano e si sbronzano. Il sagrestano chiacchiera con loro e racconta freddure. Si riaddormenta, poi si risveglia e scende a riposarsi. Ancora boschi, un tempo infestate dai breganti, foreste nere ed abeti sotto un cielo stellato, casette, cancelli. Johan, esausto, si avvicina all'ignoto con timore. La strada si fa pianeggiante e l'alba e i carri si fermano davanti a una casa rossa. Di fronte si erge un edificio alto e nero, una chiesa, un'altra chiesa. Una vecchia alta e magra, almeno così sembrò Johan, viene a ricevere i ragazzi e li conduce in una stanza al pian terreno, con una tavola apparecchiata. Ha una voce aspra e scortese e Johan ha paura. Mangiano al buio. Il cibo non sa di niente, è strano. I ragazzi sono stanchi, hanno un gruppo in gola. Sempre al buio vengono accompagnati in soffitta. Non accendono nemmeno una candela. La stanza è stretta, piena di letti, di materassi di fortuna sulle sedie e per terra c'è una puzza terribile. Una testa spunta dalle coperte, poi un'altra. Ridacchiano e bisbigliano, ma i nuovi venuti non riescono a vedere le facce. Al fratello più grande viene assegnato un letto, mentre Johan e l'altro fratello devono dividersene uno e sdraiarsi l'uno con i piedi in faccia all'altro. Una novità. Si mettono al letto e cominciano a tirarsi le coperte. Il più grande prende tutto il posto, sfacciatamente. Johan protesta per il sopruso. Si tirano dei calci e Johan alla peggio. Si mette a piangere. Il fratello più grande si è addormentato. Una voce si leva da un angolo in fondo. State fermi, ragazzacci infernali, e non vi picchiate. Cosa dici? risponde il fratello, che non ha paura di nessuno. La voce di basso replica. Lascia in pace il piccolo. Non sono fatti tuoi. Sì che lo sono. Vieni qui che ti aggiusto io. Cosa fai tu? Il fratello si alza in camicia. Il ragazzo con la voce da basso gli va incontro. È un tipo squadrato, con le spalle larghe per quello che si può vedere. Gli spettatori si mettono a sedere sui letti. I due cominciano a picchiarsi. E il fratello grande le prende. Smettila di picchiarlo. Smettila. Johan si butta in mezzo. Non è mai riuscito a vedere soffrire il sangue del suo sangue, senza patirne di persona. Sempre la stessa dipendenza, l'indissolubile legame del sangue, il cordone umbilicale che non si poteva tagliare, ma solo rosicare a poco a poco. Ritorna in silenzio e con esso il sonno, che a quanto pare somiglia alla morte, tanto da invitare molta gente a un riposo prematuro. Comincia una nuova vita, un'educazione senza genitori, perché è lontano, in mezzo a gente sconosciuta. Ha paura ed evita con cura i rimproveri. Non aggredisce nessuno, ma si difende contro i prepotenti. Sono in troppi perché possa essere raggiunto un vero equilibrio. Giustizia viene fatta dal ragazzo con le spalle larghe, che è gobbo e che forse proprio per questo sta sempre dalla parte dei più deboli, quando vengono ingiustamente attaccati. I ragazzi studiano la mattina, fanno il bagno prima di mezzogiorno e lavorano il pomeriggio. Puliscono l'orto, vanno a prendere l'acqua al pozzo, strigliano i cavalli nella stalla. È desiderio del padre che i bambini facciano lavori manuali, sebbene paghino la pensione ordinaria. L'obbedienza e il senso del dovere di Johan nei confronti dei suoi compiti non sono tuttavia sufficienti a rendergli la vita sopportabile. I fratelli si espongono ai rimproveri e lui ne soffre. Si sente solidale con loro e per tutta l'estate non è che un terzo di una persona sola. Non ci sono altre punizioni che la proibizione di uscire, ma bastano i rimproveri ad agitarlo. Il lavoro lo rende forte nel corpo, ma la sua sensibilità nervosa non si attenua. A volte rimpiange la madre. Oppure è esageratamente allegro e dirige i giochi, soprattutto quelli violenti, come far rotolare sassi dalla cava di calcare, accendere i fuchi sul fondo o scivolare giù da un pendio scosceso su tavolette di legno. Pauroso e coraggioso, esuberante e maninconico, senza equilibrio. La chiesa, sull'altro lato della strada, col suo tetto nero pece e il muro bianco cadavere, getta un'ombra sul quadro estivo. Le croci delle tombe, che sporgono dal muro di cinta, finiscono per far parte della vita quotidiana della sua finestra. Le campane non suonano tutto il giorno, come quelle di Clara, ma la sera alle sei tocca ai ragazzi andare a tirare la corda che pende dal campanile. Fu un gran momento, quando venne il suo turno di suonare le campane. Si sentì quasi un funzionario della chiesa, e mentre contava tre volte tre colpi, temette che Dio, il pastore e la parrocchia avrebbero potuto riportare chissà quale danno se avesse battuto un colpo di troppo. La domenica i ragazzi più grandi avevano il permesso di andare su a suonare le campane. Allora Ioan si metteva vicino alla scura di legno e rimaneva a osservare. In estate, inoltrata, arrivò un proclamo all'istato a lutto. Quando fu letto in chiesa, suscitò una gran commozione. Re Oscar era morto, parlarono molto bene di lui, anche se nessuno arrivò a piangerlo. Ora le campane suonavano ogni giorno, fra mezzogiorno e luna. Sembrava una persecuzione. I ragazzi giocavano spesso fra le tombe, al cimitero, e la chiesa diventò presto qualcosa di familiare. La domenica tutti i pensionati prendevano posto sulla tribuna dell'organo. Quando il segrestano intonava un salmo, a un suo accenno, i ragazzi tiravano fuori tutti i registri e cominciavano a cantare in coro. Faceva sempre un grande effetto. Tuttavia, a forza di vedere da vicino le cose sacre e di maneggiare gli oggetti del culto, gli diventarono familiari e il rispetto diminuì. Per esempio, la comunione smese di essere edificante. Una volta che gli capitò, il sabato sera, nella cucina del segrestano, di mangiare il pane sacro, che lì veniva preparato e timbrato con uno stampo a forma di crocifisso. I ragazzi lo assaggiarono e lo definirono sigillabocca. Una volta al termine della comunione, Yuan fu invitato in sacristia a bere il vino con i diaconi. Strapato alla madre, circondato da poteri ignoti e minacciosi, Yuan cominciava a provare un forte bisogno di protezione. Recitava le preghiere serali con notevole devozione. La mattina, quando splendeva il sole e si sentiva riposato, il bisogno scompariva. Un giorno in cui si rinnovava l'aria all'interno della chiesa, i ragazzi vi si precipitarono a giocare. In un eccesso di foga, assaltarono l'altare. Yuan, spronato a compiere qualcosa di veramente audace, si lanciò sul pulpito. Capovolse la clessidra e cominciò a predicare su spunti biblici. Fece furore. Poi prese a correre per tutta la chiesa, passando sui banchi e senza mettere piede a terra. Giunto al primo banco, vicino all'altare, il banco del conte, sale con troppa forza sul leggio del libro dei salmi, che rovina a terra con gran fracasso. Panico. I compagni si danno tutti alla fuga. Yuan rimane solo, annientato, come desiderava la mamma ora. Confessarle la sua colpa e implorarla di aiutarlo. Ma lei non c'è. Si ricorda di Dio. Cade in ginocchio accanto all'altare e recita tutto il padre nostro. Forte e tranquillo, come se avesse ricevuto un'ispirazione dall'alto. Si rialza, esamina il banco, si rende conto che i perni sono intatti. Prende i listelli, incastra giunti i perni, si leva una scarpa che usa come martello e con qualche colpo ben assestato il leggio è di nuovo a posto. Lo prova. Regge. Lascia la chiesa relativamente tranquillo. Tutto qui, pensa. E si vergogna di aver detto il padre nostro. Perché? Forse avverte oscuramente che nel complesso caotico che viene chiamato anima si cela una forza che, invocata a difesa nel momento del bisogno, possiede una grande capacità di ripresa. Che non credesse nell'aiuto di Dio risulta dal fatto che non si gettò in ginocchio per ringraziarlo. E quella vaga sensazione di vergogna fu probabilmente provocata dalla consapevolezza di aver fatto tanto rumore per nulla. Questo fu solo un momento passeggero di coscienza di sé. Sempre incostante, diventa ora anche capriccioso. Capricci, ghirivizi o diable noir, come li chiamano i francesi, sono fenomeni non ancora completamente spiegati. La vittima è invasata. Vuole una cosa, ma fa il contrario. Desidera farsi del male e ne soffre. Gode nel tormentarsi. È un'infermità mentale, una malattia della volontà. Nel passato gli psicologi la spiegavano con lo sdoppiamento del cervello. I due emisferi possono in certe condizioni operare indipendentemente e in conflitto reciproco. Questa teoria è stata reggettata. In molti hanno studiato lo sdoppiamento della personalità e Goet ha ripreso il tema nel Faust. I bambini capricciosi che non sanno cosa vogliono piangono per sfogare la tensione nervosa. Si dice anche che implorano le botte ed è strano osservare come una leggera punizione in certe occasioni reinstauri l'equilibrio nervoso e sia quasi ben accetta. Il bambino si calma immediatamente, diventa docile e non sembra affatto amareggiato per la punizione che deve sembrargli ingiusta. Chiede le botte come medicina, ma c'è anche un altro modo per fugare gli spiriti neri. Si prende il bambino fra le braccia in modo che avverta il magnetismo di una persona amorevole. Si calmerà. È il metodo migliore di tutti. Il ragazzo soffriva di questi attacchi. Quando si presentava un'occasione piacevole, per esempio una gita per cui gli rimiertilli, chiedeva di rimanere a casa. Sapeva che si sarebbe annoiato a morte, ci sarebbe andato volentieri, ma un'altra volontà, più forte della sua, gli comandava di rimanere a casa. Più si cercava di convincerlo, più si ostinava. Se invece qualcuno non ci faceva a casa e lo prendeva per scherzo per il colletto, buttandolo sul carro del fieno, allora obbediva. Contento di potersi liberare di quella volontà inesplicabile. In genere obbediva volentieri, senza opporsi e non cercava di comandare. Era nato schiavo. La madre, dal momento che faceva la cameriera, aveva servito e obbedito per tutta la sua gioventù ed era stata costretta a essere cortese con tutti. Una domenica stavano in canonica. C'erano anche delle ragazze. Gli piacevano, ma ne aveva paura. Tutti i bambini uscirono a raccogliere le fragole. Qualcuno aveva proposto di metterle insieme e poi, una volta a casa, di mangiarle con lo zucchero. Ioan raccolse la sua parte con diligenza, rispettando i patti. Non mangiò nemmeno una fragola e consegnò lealmente il suo tributo. Ma si accorse che gli altri imbrogliavano. Al rientro a casa, la figlia del pastore distribuisce le fragole, mentre i bambini la circondano per ricevere ognuno la sua parte. Ioan si tiene indietro, viene dimenticato e rimane senza. Nemmeno si accorge di lui. Ammareggiato va in giardino e si nasconde in un pergolato. Si sente la persona più spreggevole di questo mondo. Non piange, avverte qualcosa di duro e di freddo, levarsi dentro di sé come una corazza d'acciaio. Passa in rassegna tutta la compagnia, ma non trova nessuno più onesto di lui, che non ha mangiato nemmeno una fragola. E così, pum, salta alle conclusioni sbagliate. È stato dimenticato perché migliore degli altri. Risultato? Si ritiene superiore e prova una forte volutà a essere stato trascurato. Possiede anche la capacità di rendersi invisibile o di tenersi in disparte, in modo da farsi dimenticare. Un giorno il padre tornò a casa con una pesca per cena. Tutti i bambini ebbero una fetta del frutto raro, ma non si sa come Ioan rimase senza. E il padre, altrimenti giusto, non se ne accorse. Si sentì talmente fiero di quella nuova prova del suo destino crudele che la sera se ne vantò con i fratelli. Non gli credettero, tanto inverosimile apparve loro la storia, tanto meglio. Soffriva anche di antipatie. Una domenica in campagna, presso la casa del sagrestano, giunse una carrozza con dei giovani. Ne scese un ragazzo, Bruno, dall'aspetto ambiguo e impudente. Appena lo vide, Ioan corse a nascondersi in soffitta. Lo cercarono, il sagrestano provò a convincerlo, ma lui rimase a sedere nel suo angolo, ascoltando i giochi degli altri, fino a quando il ragazzo Bruno non se ne fu andato. Bagni freddi, giochi selvaggi, duro lavoro fisico, nulla riusciva a fortificare i suoi nervi sregolati, che talvolta si tendevano allo spasimo. Aveva una buona memoria, studiava bene e soprattutto cose concrete, come la geografia e le scienze naturali. L'aritmetica li imparava a memoria e odiava la geometria. Non riusciva ad afferrare le scienze astratte. Solo più tardi, trovato un manuale di agrimensura, comprese l'utilità pratica della geometria. La materia cominciò a piacergli e presi a misurare alberi e case, a rastrellare giardino e viali, a ritagliare figure di cartone. Era entrato nel decimo anno, aveva spalle larghe ed era abbronzato. I capelli biondi e tirati all'indietro scoprivano una fronte patologicamente alta e sporgente, frequente oggetto di conversazione tra i parenti, che gli avevano affibbiato il soprannome di professore. Non era più un'automa, cominciava a osservare e a trarre le proprie conclusioni. Si stava avvicinando il momento in cui si sarebbe dovuto separare dal suo ambiente e cavarsela da solo. Ma la solitudine sarebbe stata per lui un pellegrinaggio nel deserto, dato che non possedeva una personalità tanto forte da camminare senza guida. La sua simpatia per la gente non sarebbe stata corrisposta. Le loro opinioni erano troppo diverse dalle sue e così sarebbe andato in giro a offrire il cuore al primo venuto, ma nessuno lo avrebbe accettato perché era diverso da loro. E lui si sarebbe chiuso in se stesso, ferito, umiliato, negletto, trascurato. Terminò l'estate e Johan ritornò a casa per l'apertura delle scuole. Il tetro edificio vicino al cimitero di Clara gli apparve ora doppiamente triste. Quando vide la lunga fila di aule, che sotto nomi latini fino alla quinta avrebbe dovuto occupare per un determinato numero di anni, per poi annoiarsi in un'altra fila di aule fino al liceo, la vita non gli sembrò affatto allettante. Contemporaneamente il suo orgoglio comincia a ribellarsi ai compiti con il risultato di brutti voti. Il semestre successivo scende nella gradutore di classe. Il padre lo sposta dalla scuola di Clara a quella di Jacob e allo stesso tempo si trasferiscono da Nortusgatan a Stora Grabbersgata in una tenuta nei presi di Sabetzberg.